Mentre i panificatori di Caltagerona annunciano l'imminente aumento del prezzo del pan a 3 euro al chilogrammo a decorrere dai primi di febbraio, il comparto dell'agricoltura ha riunitosi nella sala riunioni della CIA alla presenza del presidente della CIA Sicilio Orientale Giuseppe Di Silvestro, gli agricoltori lamentano la crescita dei costi di produzione delle materie prime, più precisamente riferito ai rincari dei costi di energia, tra cui carburante agricolo, energie elettriche e gas, senza considerare poi il caroconcimi e le piaghe riconducibili alle calamità naturali e alle crisi di mercato. I costi di produzione del settore agricolo sono diventati esorbitanti e quindi tutt'assieme si vuole cercare con questa interlocuzione di suggerire quali sono anche le potenziali proposte al mondo politico per far sì che le aziende agricole possano continuare a vivere economicamente perché oggi con i costi di produzione che abbiamo sicuramente non ci possiamo riuscire. Nella sala riunioni della CIA con particolare riferimento alle produzioni agricole del Calatino ulteriore lamentele giungono dai produttori di uva, dal consorzio IGP di Mazzatrone, dai cerealicoltori e allevatori di bestiame. Un quadro insomma allarmante che il presidente della CIA Sicilia Orientale ha così sintetizzato nel corso del suo intervento. Noi abbiamo fatto come CIA Sicilia Orientale dei documenti che abbiamo mandato al Ministero alla Regione Sicilia per cercare di fare in modo che si intervenga per fermare questa bolla speculativa che c'è attualmente nelle campagne in agricoltura in maniera particolare. Ma non solo. Oggi i mercati con la pandemia stanno rispondendo in maniera diversa rispetto al passato. Quindi se oggi il grano si vende ad un certo prezzo non sappiamo a giugno o a luglio cosa succederà. E questo chiaramente con l'incertezza mette in difficoltà le aziende agricole, sia cerealicole ma anche quelle dell'uva da tavola perché fra non molto dovrebbero andare a coprire con la plastica e i teloni per anticipare la produzione. E la plastica è aumentata più del 30%. Quindi questo significa chiaramente costi eccessivi per i produttori che hanno avuto in un paio di anni a questa parte una crisi di commercializzazione che chiaramente li ha messo in grosse difficoltà. Grazie.